Vacanze estive purtroppo già fatte, tutto bene, fatto una settimana tra Umbria e Toscana, passata molto bene, tanto caldo perché là non piove mai. E a Ferragosto invece che cosa ha fatto? A Ferragosto sono rimasto a casa perché se sta bene anche a casa in giro c'era già abbastanza confusione. Niente piani quest'anno? No, no, vado via un giorno sì, un giorno no, dipende quando mi gira. Basta che non ci sia tanta gente in giro, parto, vado e poi torno la sera. Vacanze di agosto, appena cominciate. E cosa farà? Rimarrà qui il locale e andrà via? No, rimango qua. E a Ferragosto invece come l'ha passato? In montagna. Dove? A Monte Corno. A casa, siamo stati via un paio di giorni e basta. Dove siete andate di bello? A Sottomarina. E a Ferragosto invece come le... A casa. Niente piani? Siete da nessuna parte, a casa tranquilli. Vacanze di agosto signora? Sì, già fatte, grazie. Dove è andata di bello? Sono andata a Creta quest'anno, sì. Abbiamo scelto un posto free e siamo stati bene. Non ha avuto problemi con green pass, con controlli? Ho chiesto e eravamo dentro nel villaggio e eravamo tutti green pass. A casa l'abbiamo già fatta e quindi diciamo che per me. Dove è andato di bello? A Jesu. Quindi è rimasto locale? Sì, perché nel Covid abbiamo preferito non utilizzare tipo spostamenti un po' più... dicono l'auto e quindi qui vicino. E a Ferragosto invece come l'ha passato? A Ferragosto siamo andati al Monte Corno, quindi sempre qui vicino. È molto bellissimo, è stata passeggiata dalle Maghe. Grazie. Grazie.